Da oggi la struttura sanitaria La Melagrana di Narnali torna a essere interamente dedicata ai pazienti Covid. Tutti i 32 letti a disposizione quindi accoglieranno i pazienti contagiati con un quadro clinico non grave. Grazie alle vaccinazioni infatti il fronte aperto non sono più i posti in terapia intensiva quanto i letti a bassa intensità. Al Santo Stefano ne sono stati attivati 80. Solo il 20% dei pazienti è ventilato rispetto al 50-60% delle precedenti ondate e questo significa che una parte può essere sistemata altrove. L'obiettivo è sgonfiare il nosocomio per non sacrificare troppo i reparti no Covid e gli interventi programmati. Per questo oltre a richiedere alla Regione l'invio di altro personale infermieristico e medico per portare i letti allestiti al CREF dagli attuali 40 a 60 o anche 100, sarà adottata una nuova modalità organizzativa che mette in rete i posti letto delle RSA con bolla Covid. Attualmente su 18 strutture del territorio provinciale 5 hanno ospiti positivi. Ebbene in queste RSA saranno inseriti i pazienti anziani contagiati non gravi e verranno seguiti dal personale ASL delle squadre Girot e Usca. Al momento i 25 letti di cura intermedia allestiti nella palazzina ovest del vecchio ospedale resteranno no Covid.